non so se hai notato che più uno è ricco e importante e più pensa in grande quando pensa a morte quasi che gli erode che quella vi è per tutti e ce fa tutti uguali ricchi poraci belli brutti e allora costruiscono mausolei e tombe di famiglia e scrivono testamenti come a voler controllare tutto pure quando non ci saranno più così è sempre stato eppure all'epoca di romani chisso poteva permette preparava grandi tombe ancor prima di morire e tanto più si erano potenti e imperatori che una tomba veniva di non solo ricchezze e potere ma pure altre cose politiche e non qui c'avemo il sarcofago ossia a bara da via di costantino l'imperatore che dette a libertà i cristiani e pare che se fecero cristiani tutti in a famiglia sua però a religione d'estate era sempre quella pagana de marte venere bacco e compagnia bella i cristiani erano tollerati e potevano finalmente vive in pace e in pace morì facendo se seppellì in attesa da resurrezione mo qui costantina o costanza come preferisci se fa fa' una bella scatolona de un marmo egiziano che si chiama porfido che solo l'imperatore e famiglia ovo deve non usare dato che il colore porpora è il colore di re pure nelle favole di Walt Disney esso va a decorare con una bella scenetta dei amorini tipo quelli che si mettono sui biglietti del san valentino quando pesteggi capis che è la tua che stanno a vendemmià come a di vino e amore godete vea vita che è breve e dopo buio che è quello che credevano i pagani ma i cristiani no manera cristiana questa e beh si guardi bene volenno sti stessi disegnini potrebbero piacere pure ai cristiani la morini non sembrano angioletti e il vino non si dice che è il sangue di Cristo Cristo non dice io so a vita e voi trarci e il pavone simbolo di vita eterna la riede l'agnello sacrificato come a di si sei pagano te piace e si sei cristiano pure io so a principessa dice costanza al lusso non ce rinuncio e so romana e a tradizione classica e a cultura mia ma so pure cristiana ci riuscimo a mettere tutte ste cose insieme?